Ed ora parliamo di videogames, un altro titolo per gli appassionati di tennis. Questa volta però da tavolo. Table tennis è una simulazione di ping pong, il primo gioco Next Generation del Team Rockstar per Xbox. I programmatori sono riusciti a catturare tutta la profondità e l'immediatezza di questo bellissimo sport. I comandi sono semplici e intuitivi e ad ogni tasto corrisponde un colpo specifico. Lo spostamento del giocatore è relegato allo stick sinistro, mentre i colpi possono essere effettuati utilizzando lo stick destro oppure i pulsanti. Ad ogni pulsante del pad è assegnato un tipo di effetto differente, per cui premendo ad esempio il tasto A si ha un colpo dritto e forte, mentre con il tasto B si ottiene un effetto ad uscire o rientrare, dipende dalla posizione, verso destra. Utilizzando poi un effetto in contemporanea con un pulsante dorsale, si alterneranno il colpo corto e lento sotto rete o il colpo potente, quest'ultimo utilizzabile solo quando una speciale barra si riempie, un po' come succede in topspin e virtual tennis. Il comparto tecnico di questo gioco è davvero godibile. La fisica della pallina ha dell'incredibile, essa schizza a velocità folli con rimbalzi estremamente vari e realistici. I modelli sono ottimi, così come i movimenti e gli atteggiamenti dei giocatori dopo aver segnato un punto. Forse l'unico punto debole di questo gioco è da ricercare nell'assenza di una modalità carriera e nel relativo editor grafico per personalizzare il proprio alter ego, come invece può essere fatto in topspin. Abbiamo a disposizione solo tre tornei di crescente livello di difficoltà, con il quarto sbloccato, previa vittoria nelle precedenti sfide. Il cuore pulsante del gioco resta comunque il multiplayer online, che regalerà anche ai non appassionati di questo sport ore e ore di sano divertimento. Grazie.